buongiorno a tutti voi e bentrovati a buongiorno giro quarto appuntamento ciò significa quarta tappa da catania a villa franca terrena guardando l'altimetria di questa tappa sembra di vedere una montagna disegnata da un bambino il tratto di matita parte dal basso dalla sinistra del foglio sale sempre più acuto fino al centro e da qui scende specularmente a come era salito per finire di nuovo orizzontale sulla destra del disegno dopo le fatiche di ieri tutto fa pensare che la tappa di oggi finisca in volata con l'interludio di una fuga in mezzo l'arrivo sembra semplice come un quadro naif ma occhio al vento se arriva lui potrebbe diventare una guernica grazie a tutti e questa è un'altra cartolina meravigliosa intanto noi vi ricordiamo che catania sarà sede di partenza di tappa per la dodicesima volta nella storia villa franca terrena invece è seda d'arrivo per la prima volta la portella mandrazi è alla sua quinta apparizione alla giro d'italia l'ultimo passaggio fu nel 2003 ed il primo in vetta freddy gonzalez ma alberto contador è pronto a direci qualcosa di più perché tendiamo che guardare che velocisti è capace di superare questa salita che sta a metà d'etapa penso che può essere un'etapa molto propicia perché qualcuna squadra che tenga un velocista pone un tempo forte in questa salita per arrivare da solo con più opzioni per la vittoria d'etapa per buongiorno giro è tutto ma io vi ricordo è che noi ci ritroveremo anche questa sera con appunto buonasera giro quando racconteremo tutto quello che sarà accaduto in questa quarta tappa nel frattempo non dimenticate di seguirci sui social ufficiali del giro d'italia e ovviamente sul sito www.giroditalia.it a più tardi